Via libera finalmente ai lavori di pulizia e messa in sicurezza dell'alveo del fiume Verdura. Si è svolta questa mattina presso gli uffici del Genio Civile di Egrigento, alla presenza del responsabile dell'ufficio Rino Lamedola e del responsabile unico del procedimento dei lavori Alfonso Miccichè, la riunione con i sindaci dei territori interessati al bacino idrografico del fiume Verdura. Presente anche il comune di Sciacca con l'assessore ai lavori pubblici e protezione civile Roberto Locicero. Durante l'incontro il capo del Genio Civile Rino Lamedola ha comunicato che l'iter di valutazione ambientale che aveva determinato il fermo delle procedure di affidamento è stato superato anche grazie all'intervento del presidente Musumeci. Durante l'incontro il responsabile unico del procedimento Miccichè ha descritto per grandi linee l'intero progetto rappresentando la necessità di un incontro preliminare ai lavori con i proprietari dei fondi vicini all'alveo del fiume. Una buona notizia dunque con i sindaci dei comuni interessati che hanno dato atto del mantenimento degli impegni assunti dal governatore e dalla concretezza dimostrata dall'Ufficio del Genio Civile che è riuscito a redigere il progetto esecutivo per la pulizia di 18 chilometri di alveo. Adesso verrà programmato un incontro con i cittadini proprietari dei terreni attraversati dal fiume al fine di arrivare alla più ampia collaborazione per una veloce esecuzione dei lavori. Grazie. 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 Grazie.